Si non è messo in postura, ma la maggioria può portare l'auto, ma se non può, ma potremmo non passa, e a tardi non è contento con noi. E le persone, ora che è bene, non sta ricevendo, non si tratta il nome, non si tratta il nome, non si tratta il nome, non si tratta il telefono, perysłoware il tuo ambiente, senza riempire il nome, ci sono delle persone che si tratta, e in un'attopzione di risultato e non si tratta o che ci si tratta. Non si tratta di vincenzo, non si tratta, se ci sono delle persone, se c'è un problema la città è difficile, la città è molto difficile, la città è molto interessante e la città è molto interessante e la città è arrivata, questo tipo di cose, ma non c'è nessuna persona che si inscrivono, non c'è nessuna persona messa, ora è diventata un miembro, non c'è nessuna opportunità, in una riunione generale e i miembri di loro si chiedono a chi è, a chi è il nome, a chi è il hobby, a chi è la vita e a chi è la vita, a chi è il gana di vita e a chi è la vita e al momento loro in sala abbiamo un cordiale buon bimini la maggioranza non aveva due o tre le parole, che non avevano apprezzato che si è stato miembro del club e che non è stato apportato dentro di una necessità e noi aiutiamo altri noi abbiamo un'unione il club del legio ha un'unione la nostra famiglia quindi noi aiutiamo altri noi aiutiamo altri dentro di una necessità che è possibile il club del legio haveciato il 70 anniversario hai, hai un'unione come si è un'unione come è? noi abbiamo un'unione un'unione di blu scogli e perchè è blu e il fatto di prendere che stai stai-te se stai-te una calazione il club del suo'unione del giglio lo abbiamo? il nostro istforzo è un'unione siamo capric politico e il nostro paese è cambiato in bandiera. Noi abbiamo un legio così, con la Francia League Mirelle, con un club di legio, con la Mieraschibì, eccetera. Però, ora, il nostro paese è un rio nuovo e un club. Hai invitato Marcia Guilani? Conta a noi. Conta la mia vita. Qual è la passata? Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Conta a noi. Cosa vuoi il club? La Secretaria. Cosa vuoi il club di legio? Il club di legio è un club social. È un club di Hobbichabri. Ci siamo confiati a altri. Quindi, il che è una migliore difficile Cosa vuol direttiva la셨ì quest'un club di legio club Lee che si sconto la ottena. Que cosa vuoi cioè non tenere la Beckettia azz Chat Il Club di legio. Bene, mi chiede per più persone, più di il pobo, che arrivano a 30 anni e vim vim vedere come il club è grande, vim vim conoscere con noi, vim vim conoscere, perché il club è più grande. Ok, ma spera che la chiamata qui, avete un numero di contatto, numero di contatto con noi, per assicurare più informazioni? Sì, bene, mi chiede assicurare qui è una forma più efficace per visitare noi, nel club, per ogni domingo. Però se c'è una persona che ha più informazioni, mi chiede il mio numero di telefono, e la persona non mi chiede l'explicazione con il tour e per assicurare per divirti miembro. Non c'è un formulario, ora che la persona viene, non c'è un formulario che si prende l'explicazione con il pubblico. Non c'è un formulario che si vede in direttiva, e il domingo non c'è l'explicazione, ma non c'è l'explicazione. Ora ci sono due, ma non c'è un processo. Quale è il numero di contatto con il pubblico? Ora, e la mia ripetizione a chi arriva in social media? Ma lo sai? C'è un cospetto? Sì, sì, ma... C'è un cospetto? Sì, sì, ma... Ma io ho delle 5 mila chiamate per dire, sì? Ma io ho delle 5 mila chiamate per dire, sì? Ma mi chiede la mia chiamata per dire, mi chiede la mia chiamata online? È possibile? Buongiorno! Mi chiedono off-line! Buongiorno il telefono!